Ho capito, perché? La mandiamo sulla pagina nostra di Facebook. Ma se l'intervista dovesse intervistarla su come stanno andando queste banchette... Intanto lei è venuta da Sezze domenica pomeriggio e sta qua. Il 26 di novembre è stata qua col ministro del Rio. Non c'era niente, ho saputo che c'era foglia, mi sono prescita.